70.000 miglia di solidarietà per 8 amici in moto dall'India all'Italia per far conoscere l'attività di un'associazione bresciana che si occupa di adozione a distanza e di scolarizzazione. 12.300 km a bordo delle mitiche Royal Enfield prodotte in India sul progetto originale inglese del secondo dopoguerra. 4 moto e 8 amici, una joint venture della solidarietà bresciano-milanese dall'India allo Xinjiang cinese in rivolta, dall'Utsubekistan alla Turchia sulle strade più polverose e dissestate del mondo. Le moto erano veramente una calamita, una cosa che insomma quando le venivano guardavano, toccavano, cercavano di capire. Il comportamento di questi mezzi è stato eccellente, a parte qualche acciacco di giovinezza, un aspetto speciale da parte dei piloti che le hanno trovate comode, belle, robuste. Ora le moto riposano al museo delle mille miglia di Brescia, ma i ricordi volano liberi all'aiuto ricevuto da anonimi meccanici in Pakistan o all'accoglienza dei montanari del Kyrgyzstan. Bastava andare da loro, bussare a loro porta e ti offrivano da mangiare, ti offrivano da bere, tempo per riposarti, per stare con noi e per stare con loro. Sponsorizzato dall'azienda Bresciana è un viaggio per far conoscere un'associazione che si occupa di adozioni a distanza e scolarizzazione in India. Abbiamo costruito una scuola, la casa per le vedove, la casa per i bambini. Ora ci spostiamo in una zona nuova, a Kannanur, e di lì dobbiamo ricominciare a ricostruire un'altra scuola. A quest'ultima iniziativa saranno diretti i fondi ricavati a metà dicembre dall'Astra delle Royal Denfield e dalla vendita di un libro e di un DVD sulla spedizione 7000 miglia lontano. E abbiamo ancora il tempo per qualche notizia, operazione poi.